Cosa stai preparando sul momento Ivan? Adesso sto facendo le paste, mi hanno chiamato le pasta al pomodoro, pasta al ramù, pasta da una parte purtroppo è tricotto perché se come adesso arrivano in 3-4 li faccio aspettare troppo, tocca aprire forse la pasta. Si, è comunque tutto fresco al momento. Non lo flesco ragù flesco tutti i giorni.